La dottoressa Alessandra Salfi ci parlerà di quelli che sono i valori nella percezione degli italiani di un paesaggio, particolarmente un paesaggio rurale. Il paesaggio rurale contiene in sé una serie di valori che sono materiali e immateriali perché è per i cittadini qualcosa che aiuta a riconciliarsi con la natura, con i suoi tempi, ma anche con il valore del rispetto, rispetto dei tempi, rispetto dell'ambiente, rispetto del territorio e della sua conservazione. Dall'altra parte racchiude anche valori economici perché la valorizzazione del patrimonio rurale consente anche di valorizzare la vocazione turistica di un territorio e quindi dare un valore aggiunto proprio in termini monetari, per cui il paesaggio di fatto è uno scrigno di valori.